Ci sono delle agevolazioni per i residenti del centro storico, per chi lavora in città o si rega in questa zona per fare acquisti, lo chiedono i consiglieri della Lega Fano che hanno depositato in comune un'interrogazione per avere risposte dal sindaco e dalla giunta. La seduta si terrà domani dalle ore 18 e questo sarà il primo argomento all'ordine del giorno, infatti se da una parte prosegue la rivoluzione parcheggi dall'altra continuano i dubbi di politici residenti sulle scelte adottate e sui lavori già eseguiti. Tutti questi parcheggi a pagamento, il centro storico già in questo momento che è comunque in crisi e sta subendo ancora un momento delicato con queste restrizioni attuali, con quest'area tutta di parcheggi a pagamenti si vedrà ancora di più isolato da tutto il resto e a vantaggio probabilmente di quelli che sono i centri commerciali e l'abbondanza e la facilità di raggiungimento. La proposta della Lega è quella ad esempio di rimborsare il ticket del parcheggio a chi si reca in città per motivi di lavoro, shopping o semplicemente per rientrare nelle proprie abitazioni. Chi lavora 8 ore in centro storico non può sicuramente raggiungerselo e permettersi di pagare 8 euro giornaliere per le 8 ore lavorative per parcheggiare la propria auto. Sappiamo tutti che la caserma, fortunatamente abbiamo la caserma come parcheggio libro, è più delle volte stracolma di auto. Altra questione poi è quella di piazza Andrea Costa, liberata dalle auto, infatti come spiega la consigliera Magrini, anziché proseguire la sperimentazione fino a dicembre, il progetto è stato interrotto a fine settembre, quindi la delibera è stata abrogata ma è rimasta la pedonalizzazione nelle ore serali. Rende comunque difficile l'accesso sia e soprattutto ai residenti e anche a quelli che lo lavorano perché dalle 19 alle 24 le persone soprattutto rientrano nelle proprie case, quindi nei propri posti auto, nei propri garage e non possono fare accesso alle proprie case. Quindi questa è una delibera che secondo il nostro avviso e secondo anche tutte quelle persone che hanno firmato la nostra petizione durante il periodo estivo è del tutto assurda. E quindi chiediamo che anche questa parte della delibera che vedeva la pedonalizzazione venga tolta, anche perché diciamolo tutto in questo momento in cui dalle 18 il centro comunque vede tutte le saracinesche, la maggior parte abbassate, non ha alcun senso. Grazie a tutti.